Ciao amici, oggi sono con voi a fare colazione, una colazione istruttiva perché è arrivata la nuova rivista di Cucina Evolution. La sfoglio insieme con voi. Questo mese parliamo del sale e quindi abbiamo tantissimi articoli dedicati a questo. Ed è molto importante non sottovalutare il sale proprio in questo momento in cui dobbiamo tenere sotto controllo il Covid, cioè la manifestazione, la malattia dovuta al coronavirus. Il sale infatti è un nemico della microflora intestinale che invece la microflora intestinale ci aiuta proprio a produrre delle sostanze antivirali. Vi racconterò il mio viaggio in Sardegna, ringraziando Dio siamo riusciti a fare un po' di vacanze e dei piatti Evolution che rivisitano le ricette sarde più buone, più golose come per esempio l'asse Adas e alcuni piatti che serviamo nel nostro ristorante Libra Cucina Evolution e quindi dei piatti molto molto golosi che tutti voi state già facendo a casa. Intervistiamo Ellie Fanelli, una nostra grande amica oltre che una nostra grande fan. Guardate in che perfetta forma si trova Ellie. Ellie ha perso tanti chili con Cucina Evolution e soprattutto ha ritrovato la felicità. E tantissimi tantissimi altri articoli molto interessanti, di nuovo parleremo del sale, del caffè e intanto io appunto mi sono preparata la mia bella colazione con una bella tazza di caffè e latte e i biscotti Evolution. Vi lascio in compagnia, ecco qui, della rivista, so che molti di voi già l'hanno acquistata. Nel frattempo io mi mangio la mia bella porzione di biscotti Evolution che sono fatti senza sale, in zuppo del latte. Buonissimi, ormai pranziamo, ceniamo, facciamo colazione insieme, è abbastanza una normalità. Sono non soltanto con pochissimo sale ma anche con pochissimo zucchero, ne con fibre prebiotiche e quindi aiutano ad aumentare le nostre difese immunitarie. Intanto mi ci bevo anche un po' di caffè e latte e auguro a tutti voi una fantastica giornata buona da vivere. Ciao!